2015 Expo Coop è il global partner per la parte retail di Expo 2015, noi abbiamo vinto un bando, a noi è affidata la costruzione del supermercato del domani, poi chiaramente il supermercato in questo caso non è fatto di muri, ma di fatto di contenuti. Un'occasione in cui milioni di cittadini italiani, ma soprattutto in questo caso anche una forte presenza di comunità estere, possono visitare ciò che c'è in Italia, avendo come filo conduttore Expo Milano, quello dell'alimentazione e del cibo, diventa un'occasione irripetibile e diventa un'occasione sulla quale gli elementi di convergenza fra la distribuzione nazionale e la produzione nazionale debbono diventare del tutto evidenti, dove dobbiamo riuscire a mettere in fila e a condensare con pochi messaggi le buone pratiche, quindi il tema degli sprechi e tante altre cose, ma in questo caso il buon cibo, le tecnologie legate al cibo, la possibilità di far vedere quanto in termini di innovazione l'agroalimentare italiano può produrre in queste dimensioni, farlo conoscere l'Italia meglio, farlo conoscere al mondo, è una grande vetrina ed è un'opportunità che non possiamo lasciarsi scappare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!